Giovanni Belardi Giovanni Belardi, il regista del musical Peter Pan che sarà in doppio appuntamento il 9 e 10 gennaio al Teatro Trifiletti Sì esatto, questa per me sarà la prima volta che farò parte della stagione di qui in teatro infatti per me è un grande onore e soprattutto seguire fedelmente le orme del maestro Giuseppe Pollicina e avrò anche il piacere che sia presente nel cast e a fianco a me quindi sarà veramente una cosa molto bella per me anche a livello artistico e personale le date sì esatto saranno il 9 di gennaio, il 10 e questo per me più che uno spettacolo vero e proprio è un viaggio nel senso che sì sarà la storia di Peter Pan che conosciamo tutti tratto dal libro di James Matthew Barry ma l'ho visto e l'ho interpretato più come un viaggio appunto che passiamo noi dal mondo reale quello con i problemi quotidiani che abbiamo ogni giorno e che ce leontaniamo di tanto in tanto con la mano del nostro Peter Pan che per noi sognatori è l'essenziale, la fantasia e ci porta a quest'isola che non c'è dove mettiamo da parte per un attimo i problemi di ogni giorno cosa che in questo periodo storico è veramente una cosa importante secondo me quindi il mio contributo per la stagione è questo dare un momento di leggerezza a questo momento che stiamo vivendo così pesante cercando di alleggerirlo un attimino con questo musical che sarà ricco di musiche, di ballo dal vivo con tanti attori e ballerini è tutto un cast abbastanza formato sempre del campo